Signori, fate bene fratelli, sono presenti? Sì, sì, sì. Cognome? Fate bene fratelli? Sì, sì. Nome? Pietro. Qua la cartella clinica è unica per entrambi? Ah, per farsa. So bene che voi soffrite di siamismo antitetico. Quindi cominci a parlare come mamma l'ha fatta perché non capiamo. Quindi voi date questa decodificazione virtuale alla vostra patologia fondamentalmente. Cosa scusi? Continuiamo con la compilazione. Età? 62. Professione? Pensionati. Pensionati, pensionati. Frequenza delle crisi? Ah, se fosse per me, ammazzerei tutti i giorni. Ah, io non ne posso più, non ne posso più di questo qua. Ce l'ho attaccato. Farmaci assunti. Ah, non lo so lui che cosa assuma. Io mangio delle cipolle. Sto parlando dei farmaci che vi sono stati prescritti nel precedente consulto. Non lo so, c'era scritto per... per star calmi. Non abbiamo capito. Ci avete dato della roba da prendere. Comunque sta assumendo la dose prescritta. Non lo so, io ce li metto le sue bicchiere. Io non li prendo. Infatti lui è calmo, io sono stizzato. Lei deve assolutamente astenersi dal prendere comunque il turbosil, perché il turbosil è un eccitatore. Ce l'ho io del turbo. Non c'ho bisogno del turbosil. Ho la mia zappa, dalla mattina alla sera, nell'orto. Quindi tendenza allo squilibrio dei prerequisiti nel sistema neurofunzionale. Veniamo al test. Se ammirate questa meravigliosa riproduzione che raffigura una casa... La mamma... No, la Gina. La Gina che torna a casa. Sì, perché lui c'è sempre questa qua dietro che io non la sopporto. Allora, io vi prego di facilitare la compilazione di questa cartella e quindi di attenervi cortesemente ad una risposta adiacente alla domanda suddetta. La casa che si deve dividere in due, perché io devo stare da solo e lui deve andare a riverlo d'anno, staccato. E nel caso in cui vi mostrassi questa bottiglia d'acqua, che cosa nel vostro immaginario si produce? Ah, immaginario non so cosa vuol dire. E in presenza di questo rumore che riproduce suono di chiavi... Ah, sempre. Dove sta andando lei? Torni qua immediatamente. Penso sempre... Scusate. Penso stiazzito che stavo pensando una cosa romantica. La Gina che arriva a casa. Ecco, lo sa che noi non dobbiamo mai perderla di vista. Quindi per favore si rimetta al suo posto e non si allontani più. Sì, scusate, scusate. Procediamo, stavamo parlando del suono delle chiavi. Si, stava dicendo... Stava dicendo che quella lì quando arriva fa quel rumore lì odioso con quelle chiavi. Cioè le chiavi di casa nostra. Quindi comunque... Sembra possibile. È una psicologia negativa. Negativa, negativa, negativa. E di fronte a questo gesto, che cosa le può venire in mente? Un saluto da lontano. Non lo sa. Lei mi sembra... Automattica. Non è normale. Situazionale. Lei non è normale. Lei si faccia curare.